Madonna, le mangi le patatine? Le vuoi te? Se è una cosa ti piace tantissimo, la mangi subito e le lasci alla fine. La lascio alla fine. Non abbiamo veramente un cazzo in comune io e te. Mennomale. Passami queste patatine, va. Sì, però tu siediti. Siediti che non ti posso vedere. Sto panino è una merda, so di cane bagnato. Te l'avevo detto che era tutto chiuso. Ma che pretendi? Perché non sei andata a via da un'altra parte? E dove? Che ne so. Ti sarà venuta in mente? No. Vabbè. In realtà una volta sì. Mi sarebbe piaciuto andare a Londra. E perché non sei andata? Beccata! Non sei l'inglese. Ma guarda che la gente ci fa posta per impararlo. No, no. Non è per questo. Non ci potrei vivere io a Londra. Troppo grande. Meglio qui. Qui. E che ci trovi di bello? Non c'è un cazzo. Che ne sai te? Si vede. Invece ci stanno un sacco di cose belle da fare qua. Tipo? Tipo venire qui. Qui. E fare cosa? Secondo te? No. Ma con chi? Con Alessio? Eh. Infatti voi sono rimasta incinta. Quindi lei l'avete fatta qui? No, no. Lei. È stato tre anni fa. Poi l'ho perso. E lei? Lei... In garage. In garage? Sì, in garage. Cazzo! Che c'è? Ho dimenticato la giacca. Eh, va bene. Di presto la mia. No, c'erano le chiavi di casa dentro. E beh, dai. Non ti preoccupare. Si risolve. No, c'erano le chiavi di casa.